Facciamo finta che andiamo a una serata di stand-up comedy e un tizio sul palco ci racconta questa. In un negozio entra il cliente, vorrei una camicia, e il commesso la taglia, e il cliente no la porto via intera. Ora, forse avete riso, forse no. Se avete riso è di quella particolare reazione che si ha alle freddure, non una risata vera, ma un brivido agrodolce che viene quando siete consapevoli della sciocchezza ma in qualche modo vi intenerisce. E un po' il mi viene da ridere ma ci sarebbe da piangere. Se non avete riso, invece, è perché avete stanato il nonsense e percepito l'illogicità. La storiella è buona perché rappresenta benissimo, seppur banalmente, quanto sia fondamentale pensare bene alle risposte che si danno durante un colloquio di lavoro. Una battuta frettolosa o scontata può suggerire superficialità, ma una fuori dal mondo vi squalifica. Per esempio, se vi siete candidati per una posizione nei settori della comunicazione o del marketing digitale e qualcuno vi domanda perché hai scelto questo lavoro o perché vorresti farlo, non potete rispondere perché mi piacciono i social media e credo siano il futuro. E non potete farlo perché i social media sono vecchi, hanno vent'anni. Quindi, consiglio numero 5. Prima di andare in scena, pensateci un attimo. Non dite la prima cosa che vi viene in mente, ma prendetevi un tempo per raccogliere le idee e dare un senso a te per dire.